Bene carissimi fratelli e sorelle, oggi festa di San Cirillo e Metodio. Due santi, uno monaco e uno vescovo, hanno fatto un'opera eccezionale, veramente grande, nel tradurre la Sacra Scrittura dal greco alla lingua slava. Oggi è importante non sapere l'inglese, perché quando io viaggio, per esempio, vado negli Stati Uniti o in Gina o in Australia, se non sai l'inglese, mi sto facendo fatica a imparare l'inglese, però puoi parlare con gli altri. E così anche noi nel nostro piccolo dobbiamo tradurre i nostri modi di fare, i nostri modi di dire, i nostri modi di parlare, per parlare al muratore, non gli possiamo parlare di computer, se gli dobbiamo parlare di Gesù, gli parliamo, partendo dall'altezza dell'angolo, come faceva Gesù, ai pescatori parliamo dei pesci e poi arriviamo a Gesù, ai pecorai con la pecorella, come faceva Gesù, ai contadini con la parabola del seme. Quindi dobbiamo cercare di tradurre le cose difficili, che magari abbiamo capito, in parole semplici. Oggi nella liturgia possiamo prendere particolarmente due frasi. Come pregare perché possono arrivare tanti operai nella Chiesa, specialmente dopo questo Covid che si sono svuotate le Chiese in qualche maniera, in qualche misura, da qualche parte. E poi, quando è importante, l'ascolto per avere la pace. E poi anche il fatto del lavoro, se ci arriviamo, lo diciamo anche in questo omelie, pregare perché vengono operai. Gesù oggi ha detto nel Vangelo, vi saluta, pregate, dunque il padrone della Messe, perché mandi operai alla sua Messe? Perché la Messe è molta e gli operai sono pochi. Allora io, quando ero all'inizio della mia vocazione, mi chiedevo perché tanta gente prega, ma operai ne vengono sempre pochi. Ma com'è che dobbiamo pregare? Perché possono arrivare questi operai? Perché sempre si prega? Perché gli operai sempre sono pochi. Gesù ci chiede di pregare. Allora mi sono chiesto come pregare. E' come una vocina, no? Mi diceva nella testa. Cioè, come se me stesso, io stesso, diceva a me stesso, ma continuo a leggere. E il Signore ci dice il modo come pregare. Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate nulla per il viaggio. Né oro, né argento, né bisacce, né pane, né betuliche, né sandali del ricambio. Come agnelli in mezzo ai lupi, manzueti. Allora, non tutti, è chiaro che possono fare come i primi apostoli, che vanno in giro senza niente, come diceva Gesù, o come i primi francescani, o come facciamo noi quando il tempo permette, andiamo in autostop e partiamo così, solo con il saio e la Bibbia, e andiamo in Spagna, Portogallo, Francia, ci fissiamo in santuario e andiamo lì a passaggi. E chi ci prende, alla fine, diventa bello, perché questo passo del Vangelo si può vivere alla lettera. Però non tutti possono fare questo. Allora, che cosa può significare per tante persone questo passo? Perché arrivano operai nella mensa del Signore, nella messa del Signore. Dobbiamo essere staccati dalle cose materiali, dalle persone, dagli affetti, dagli avere. se la gente vede che noi siamo staccati dalle cose terrene, capisce che noi crediamo che c'è la vita eterna, capisce che noi crediamo che c'è la risurrezione del corpo, capisce che è tutto vero. Come Casino ai tempi, quando io ero all'inizio della mia fede, dicevo di Giovanni Paolo II, questo quando parla si vede che crede a quello che dici. Allora, se la gente ci vede staccati, capisce che noi crediamo e si comincia a questionare, a farsi le domande, e si avvicina a Gesù. E quello è il nostro guadagno eterno. Ma se la gente ci vede che parliamo di Gesù, ma poi concretamente non ci interessa completamente fare quello che dice Gesù, la gente lo vede, e quindi non si converte nessuno, e quindi gli operai non vengono in Chiesa. Quindi Gesù oggi ci insegna il metodo come pregare perché aumentano le vocazioni, non solo dei frati, delle suore, dei consacrati, e delle consacrate, dei parroci, dei sacerdoti, dei vescovi, ma di tutti, i padri di famiglia, i padri di famiglia, di laici, impegnati, che veramente quando escono dalla Chiesa possono dire anche a chi era con loro, ma oggi, così ti è colpito, stasera, così ti è colpito a Messa, quante volte lo facciamo quando torniamo a casa, dicendo in famiglia, così ti è colpito oggi dalla Chiesa, oppure ci sei stato in Chiesa, oppure ci stai pensando all'anima con una battuta di scherzo, ci stai pensando alla tua vita eterna, al tuo destino eterno, ecco la preghiera. Se quelli che ascoltano queste nostre parole capiscono che noi non siamo dei fissati o bizzocchi, ma siamo fissati nella vita vera, nella pace, oggi Gesù dice a proposito di pace, quando è andato in una casa, gente che sono staccate dalle cose materiali, non solo i fratoli, i francescani, i primi francescani, Gesù ci dice se vi ascoltano che non sono distratti, allora la vostra pace scenda su di loro, altrimenti, una volta in Messico mi è capitato che c'era uno, mi ha dato un passaggio con il camion, da Cancun fino a Veracruz, dovevo andare cittadino in Messico, prima volta che andavo in Messico, non parlavo bene lo spagnolo, però si capisce, sembra come il siciliano, insomma, un accento particolare lo spagnolo, poi c'era la sorella che traduceva, adesso lo parlo, lo capisco lo spagnolo, prima no, e questo tutto il viaggio era senza la pace, parlava male dei sacerdoti, dei vescovi, dei cardinali, di tutti i cristiani, ed era sempre guerrito, allora a un certo punto gli dice, Armando, io ero di qua, lui ero di qua, gli dice, Armando, stop, sono cinque signori che parli male di mia madre, che è la chiesa, tutto è tempo, ora stop, tu la pace non ce l'hai, io la pace ce l'ho, dunque sono due le cose, o ti fermi e ascolti, ti fermi di parlare, non col camion, e ascolti, altrimenti fermi il camion e fammi scendere, io stavo bene, ero ricco, perché c'era un ricco, stavo bene, facevo le case, avevo un pub, eccetera, la palestra dei Bordebillen, avevo gli operai, quindi stavo bene, si, mi è voluto povero, per parlarti fino a quando andrò nel camion, quindi sono due le cose, te lo dico una volta, io non te lo dico più, poi ascolte, o fermi il camion e fammi scendere, io la pace ce l'ho, tu non ce l'hai, se la vuoi, devi ascoltare, Gesù dice, altrimenti, ti voglio bene, ciao, mi ha detto, disculpe, per mano, scusa fratello, alla fine del viaggio, siamo arrivati a Vera Cruz, che è nel centro, così nel cofro del Messico, del Messico, e ha promesso di accasarsi nell'Ecclesia, cioè di sposarsi in chiesa, e di fare battezzare i suoi figli, e non smetteva di piangere dalla gioia, perché aveva capito, che stava sputando nel piatto, di chi gli dava da mangiare, di chi aveva dato la vita, perché lui non andasse all'inferno, allora se la gente capisce, che noi diciamo sul serio, quando diciamo le cose, allora ascolto, e quindi, l'ultima cosa, il lavoro, Gesù dice, l'operaio è degno della sua mercede, non mercedes, della sua mercede, quindi della sua paga, del suo mangiare, l'unica volta che Gesù parla di operaio, e che tipo di lavoro, è qui, Gesù parla in un altro passo del Vangelo, del lavoro, però non spiega che tipo di lavoro, qui lo spiega, chi va a evangelizzare, allora il lavoro di un padre di famiglia, di una madre di famiglia, tutti i tipi di lavori, se non sono finalizzati a dire che siamo onesti, noi lavoriamo perché siamo onesti, vogliamo vivere onestamente, per testimoniare la fede, a meno noi che veniamo in chiesa, allora quello è un lavoro che ci rimane per sempre, altrimenti devo fare una casa, due case, dieci case, posso sistemare i figli, tutto, ma poi con la morte che cosa ti resta? Magari è sempre poco quello che lasciano i figli, e magari alcuni neanche ti benedicono, dicono che era poco, quindi tutto il lavoro che facciamo, tutto quello che facciamo, anche il congile lo dice, deve essere finalizzato, alla nostra vocazione dei cristiani, io il mio lavoro lo faccio perché? Perché voglio essere onesto, padre di famiglia, madre di famiglia, insegnare ai figli come si va avanti, io da frate il mio lavoro che faccio, qual è? È finalizzato ad aiutare i poveri, ammendare i poveri, progetto casa vacanza di qua, progetto casa di là, cappellini in messa, quello che si può fare, pur non avendo soldi, c'è chi vuole fare le cose e noi le organizziamo, ma non sono le case, o il pane, o i vestiti che gli diamo, è che tu te lo fai amico per dire, io veramente credo e ti do quello che ho, nel nome del Signore, però poi il mio scopo, la mia finalità è quello di parlare di Gesù e di avere fede in Gesù, così trova la pace, perché anche se viene la morte e ci investe, non ci può fermare, perché noi crediamo nella vita eterna e nella risurrezione, allora se la gente capisce e ci guarda negli occhi e vede che noi crediamo a quello che diciamo, prende una bella bocca d'aria e si incammina, ecco, verso la pace terrena e verso la vita eterna e chi ha dubbi, come Sant'Omaso, riceverà le prove per la sua intelligenza e per il suo cuore e poi sarà pronto anche a far succidere come Sant'Omaso e come i Santi Martiri e soffrire come anche San Gerillo e Metodio e come San Corrado che ci ha insegnato, insomma, l'esempio di dare il pane fisico, ma soprattutto il pane, di mandare le persone al pane eucaristico che è l'unico pane che ci dà la vita eterna e la risurrezione del corpo. Sia lodato Gesù Cristo.